L'anno che ha sconvolto il mondo, l'Italia e il Veneto, un anno da quel messaggio arrivato al governatore Zaia nel tardo pomeriggio di venerdì 21 febbraio 2020 mentre si trovava nei nostri studi. Il messaggio che cambiava tutto, ci sono i primi due contagiati, a vo. È iniziato così l'incubo covid in Veneto e da quel 21 febbraio Made Nord-Est è stata in prima linea, giorno dopo giorno, senza sosta per raccogliere voci, testimonianze e informazioni. Servizi, interviste, inchieste e viaggi nelle realtà di un mondo capovolto. L'anno del virus è il racconto di questo lavoro costante, di una rivoluzione che ci ha cambiati per sempre. 12 mesi di paura, sofferenza, dolore, rabbia, speranza, illusione, vite cambiate, vite stravolte, 12 mesi di nuove sensazioni e nuove parole, di PCM, droplet, indice R con T, autocertificazioni, DAD. Dalla wobbling data al lockdown totale alle città spettrali, dai nonni vittime del virus all'estate del liberi tutti, dalle zone rosse a quelle arancioni e gialle, dalle serrande chiusi agli assembramenti, dagli arcobaleni di Andrà tutto bene all'odio negazionista, dalla trincea quotidiana dei medici negli ospedali alla guerra al virus da parte della sanità veneta, i tamponi, le terapie intensive, la battaglia per i vaccini. In mezzo le voci e i volti, le parole e le immagini. Veneti provati e piegati, ma mai sconfitti dal mostro invisibile.